Il mio valore intoccabile è sicuramente la self-confidence. La sicurezza l'ho acquisita attraverso l'esperienza, attraverso gli anni passati facendo questo lavoro, perché all'inizio mi buttavo più a capofitto in dei progetti senza comunque avere la giusta maturità, che invece oggi sento di avere. Ci sono state diverse situazioni nella mia vita in cui la mia sicurezza, la mia confidence è stata messa alla prova, ma i valori che mi hanno dato i miei genitori, la mia famiglia, sono serviti a superare questi momenti. Sono gli stessi valori che io e mio marito oggi cerchiamo di trasmettere a mia figlia. Essere sicuri di noi stessi non è sempre facile. Il lavoro che faccio io è quello di essere grata per tutto quello che la vita mi ha dato e mi dà ogni giorno. La gratitudine, c'è un modo molto divertente con cui io insegno a mia figlia a praticarla. Per esempio a fine giornata facciamo una sorta di gara, elenchiamo le cose per cui siamo grati ogni giorno. Essere grati è sempre la chiave che ci aiuta ad ottenere quello che vogliamo. Un consiglio che voglio darvi è quello sicuramente di conoscervi, conoscervi profondamente, quindi di cercare di rimanere sempre fedeli a voi stessi, perché questa è una cosa che vi tornerà nella vita e che vi aiuterà tanto in tutte le situazioni. Grazie a tutti!